L'emergenza esiste, la viviamo in Sicilia già da un mese, da quando siamo stati sommersi da migliaia di sbarchi. Così il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, introduce il tema caldo degli sbarchi. Il governo Meloni ha dichiarato lo stato d'emergenza nazionale, tanto che domani è prevista a Lampedusa la visita del neocommissario delegato per lo stato d'emergenza migranti, il prefetto Valerio Valenti. Compito del nuovo commissario in linea generale è coordinare le attività, volta l'ampiamento della capacità del sistema di accoglienza, con particolare riferimento agli hotspot. Valenti ha anche chiamato ad individuare le migliori soluzioni per assicurare un servizio continuativo di trasporto marittimo e aereo da parte di vettori appositamente individuati. Mentre a Roma però si discute, gli sbarchi proseguono senza sosta. A Catania ha prodotto la nave Peluso della Guardia Costera, con a bordo 201 dei circa 600 migranti soccorsi ieri dalla Guardia Costera in Acque Sar Maltesi. Dopo lo sbarco sono stati trasferiti nella struttura realizzata nell'ex hub vaccinale di San Giuseppe Larrena. Altri 299 migranti soccorsi sono arrivati la notte scorsa sulla nave Libeccio alla Marina Militare ad Augusta, nel Siracusano. Altri 111 migranti erano già arrivati nel capoluogo etneo, per un totale di 601 migranti approdati nelle coste siciliane nel giro di poche ore.